ciao oggi vi mostro come fare la farm di oggetti su lego fortnite per prima cosa andiamo su fondamenta e mettiamo un pezzo e dopo ne mettiamo due pezzi sopra dopo andiamo a mettere i pilastri dopo prendiamo qua un pilastro e lo mettiamo qua sulla fondamenta fatto questo adesso distruggo a mano così ci metto di meno e poi basta spingere il gioco è fatto ed ecco qui come fare la farm di oggetti infiniti cioè che basta spingere e si distruggono da sole senza l'utilizzo di oggetti come ascia piccone e funziona più o meno su tutto sugli alberi però non quelli grandi ma questi qua piccoli che sulla pietra tipo adesso c'è un pezzo di pietra basta spingere si distrugge e si ottiene il granito e basta il gioco è fatto spero che vi sia piaciuto il video che vi sia stato di aiuto ciao